sembrava strano, è stata un po' una trollata attenzione, attenzione, scende in campo il main, Dudley, il suo main giocatore di classe basta flash, è uguale, flash dà fastidio a loro, basta flash ok forza ragazzi si inizia elegantissimo anche il nostro schiaccio che ha messo fuori il cappello vello l'abito da finale ha messo Evin Ryu invece si presenta dopo uno dei suoi soliti viaggi eh sì, dopo che ha combattuto in giro per il mondo come vedi un po' alla Goku attenzione il Dac special che passa sotto si si, recupera velocissimo e sceglie la presa già vantaggio vita per il nostro pugile pressione dopo il focus, back dash, bravo però è comunque all'angolo ancora come vedi Dac X bravo ha rischiato ha togliersi di dosso anche io ci stava l'ha cancellato però non ha potuto punire dopo essendo andato schiacci si porta via il primo round attenzione un gentleman contro un combattente da strada di quelli vedi brucia lo vedi c'è proprio Laura si 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 è proprio eh niente antiera è strano è strano eh ma quel quel jump in scappa punisce tanta roba eccolo ancora Dac X angolo quasi eh eccoci ci siamo ecco l'angolo il solito calcio medio molto bello con questo riesce a gestire le distanze di nuovo mi aspetto un overhead no no ok grande pressione ecco l'ah troppo presto di nuovo angolo riesce sempre buono sempre buono è davvero invincibile la cosa molto bravo combo ah troppo la combo maledizione un piccolo errore probabilmente di tensione di Caino intanto counter it e questa la si sente tutto primo punto per schiacci primo punto per schiacci è la tensione qui si sente le mani tremano il cuore martella quindi non usa la rosa il nostro dadle sempre con classe colpisce in maniera elegante lui non usa mai la rosa in realtà ma perché è per stile esattamente infatti ricordiamo che nel terzo strike fare le taunt dava dei vantaggi in partita mostruosi eh sì infatti è particolare ricordiamo anche Makoto sbaglia la combo vediamo se Caino riesce a destarsi deve assolutamente essere più incisivo oh mamma mia counter it a contatto a contatto invece quindi mette all'angolo dal basso ancora stelle e stelline eccole qua ecco qua di nuovo di nuovo ha anche resettato curioso non ha combato eh no ha fatto un un gran lavoro chiaro ma Schiacci conosce alla perfezione il suo personaggio veramente lo studia da anni conosce tutte le combo tutte le distanze anche tutte le combo character specific che sono quelle che certo uniscono meglio un singolo personaggio ma è chiaro diciamo che oltre all'esecuzione che è il punto forza di Schiacci anche la la conoscenza è un altro un altro elemento che lo rende così forte potete vedere che la pressione è frame trap stella stellina si è preso anche qualche secondo per pensare pubblico basito una finale davvero un processo unico dai raga tifo tifo per Caino dai Caino bisogna ti fare chiaramente per lo sfavorito la situazione è davvero una caporetto per lui ricordiamo resettare due match e scusate resettare il bracket quindi vincere due set per aggiudicarsi il torneo attualmente invece abbiamo il match point per Schiacci brutto in stereo bravissimo Ricciotto avete sentito in stereo il commento eh si però continua attenzione è vivo è attivo ma Schiacci ha una pressione martellante è incredibile è incredibile ottimo counter it d'altronde è stato sempre molto ha entrato è entrato bravo 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 Scappa, non basta, si ferma addirittura, non riesce a punire la presa, si è addormentato un pochino, bravo è scappato, dietro, ok, con rabbia, con rabbia, un bel counter hit, bravo, ma niente, ma niente, durante l'animazione della presa. Si sveglia, primo punto per il nostro Caino, mentre Schiacci conduce, comunque sia, da Bari, giusto? Sì, sì, da Bari. È venuto qua per rullare, giocatore temuto anche all'estero, Schiacci. Eh certo, Schiacci sempre, ricordiamo che al torneo scorso era stato riconosciuto anche da Ryanar come uno dei più forti in Italia, era riuscito a incidere. Intanto va a vuoto, anche lui tira ognato dei Shoryuken, lettura sbagliata, però è questa volta Caino lo punisce a Mara Me... Oh! Angolo, attenzione, brutta situazione. Counter hit, peccato, peccato. Non vuoi essere lì in questo momento, Caino. Oh! Lo prende! Lo spegne con un medio, eh? Sì. Pronti? Ah, buono. Ah, niente. Buona, buona! Parte da combo, combo video. Angolo, combo video. Bravo, bravissimo. No, scegli il mix up, scegli il mix up, esatto. Però si è preso il rischio dell'angolo, l'angolo io non me lo prenderei mai contro Dattel e rischio di andare all'angolo. Sì, sono d'accordo, bravo. Perché, ok. O venete, infatti. Stella, Stellina, tra pochi secondi. Cerca la Stella. Bravo a parare, solito, bravo. Molto bravo. Solito, bravo Caino. Bravo, bravo, bravo. Scelta. Para dal lato giusto, bravo. Bel mix up. Ah! Oh, diretto! Mamma mia! Attenzione, match point abbiamo qui, eh? Match point per Schiacci sempre. Eh sì. Se adesso Schiacci prende il prossimo round, ha vinto. Ha vinto il torneo qua a Roma. Vedete la cautela di Caino, in effetti, sta cercando di tenere... Uh! Ah, punita questa bolla. Parte il combo video. No! Bravo! Ok, ce l'ha fatto lo stesso, in qualche modo. Si è comunque ripreso. Bella, frame trappina. Di passa dietro, di passa dietro. Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Overhead, doppio! Una sequenza di overhead impressionanti. È stato molto bravo a utilizzare il tasto Exile all'angolo. Sì, sì. Cosa succede? Ok. Che si riparte. Boom! Focus a balletta. Eh, parte subito veloce, parte subito forte, Schiacci. Hai visto la barra? Non c'è più. Eh, ho visto. Guardate, cioè, è entrato una volta. Datene un trattore. Altro di tutto, ancora uno show davvero discutibile. E giustamente dice, ne faccio un altro. Evita Carlo. Evita il Fletcher. Esatto. Evita il Fletcher. Ricordiamo, dovuto per il via di Jessica Fletcher, cioè la signora in giallo, che se fai perfect con la barra rimane gialla. Non riesce proprio a leggerlo. Come potete vedere in alto a destra. Adesso non è più il caso. Forza Caino, forza. Non mollare. Bravo! No, non si arrischia a continuare. Eh, Focus entra. Combo video di Schiacci. Grande danno. Oh, tira la rosa! E punisce! No, 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 errore, peccato. Ma quel teleport era una ultra, ragazzi. Era un errore di esecuzione. Certo che era una ultra. Poteva costare carissimo, ma... E costava carissimo. No! Bravi! Caino è arrivato a tanto così dal resettare il bracket. Dal resettare il bracket, infatti, almeno se è tornato. Gran torneo. Schiacci sempre, quindi prima. Pugno al cielo, schiacci sempre. Pugno al cielo, prima posizione. Non sono, mi spiace, non l'ho beccato. Comunque, prima posizione, schiacci sempre. Quindi, secondo classificato, Caino. Terzo classificato, il nostro Brodi Ori. Molto bella la finale. È stato un gran bel torneo. Gran bel torneo. Il team Isifix non è arrivato sul primo carattino del podio, Adesso. 國 giovani. Pravi risonare.